bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi amici vi racconto la seconda parte del caso di elisa claps se non avete visto la prima parte vi consiglio di recuperarla vi metterò il link sia qui in alto sia nell'info box del video perché se non guarderete la prima parte dubito che capirete la seconda vi farò comunque un breve riassunto prima di cominciare però vi consiglio comunque di approfondire con il primo video ma amici prima di cominciare con la seconda parte del caso di oggi per favore datemi un minuto per ringraziare lo sponsor del video di oggi che come sempre supporta il mio lavoro e lo rende possibile ovvero uno bravo se mi seguite qui ma soprattutto su instagram dove vi parlo un po più di me e della mia vita sapete quanto sia importante per me l'andare in terapia uno bravo lavora per abbattere lo stigma che ancora persiste attorno al tema della salute mentale e per creare un mondo in cui andare dallo psicologo sia considerato perfettamente normale uno bravo offre un supporto terapeutico affidabile competente ed empatico per aiutare le persone nel raggiungimento del loro benessere psicologico e nella propria crescita personale il 10 ottobre è stata la giornata mondiale della salute mentale e uno bravo ha lanciato la campagna pensati giusto in ogni fase della vita in ogni ruolo che abbiamo come figlio come genitore come amico partner eccetera o in ogni situazione in cui ci troviamo capita di provare emozioni contrastanti per le quali ci sentiamo forse sbagliati o inadeguati quando invece basterebbe solo imparare ad accogliere queste emozioni e a capire il loro significato perché come dice la mia terapeuta tutte le emozioni hanno diritto di cittadinanza non solo quelle belle con la campagna pensati giusto uno bravo vuole diffondere un messaggio ovvero che non esistono pensieri sbagliati ma solo sensazioni che è necessario e utile comprendere e strumenti giusti come per esempio la terapia online offerta da uno bravo per imparare a gestirle e a stare meglio con se stessi grazie ai più di 4000 terapeuti che collaborano al servizio di psicologia online uno bravo avrete modo di trovare lo psicologo più adatto alle vostre esigenze reali infatti uno bravo mette anche a disposizione un questionario mirato da compilare prima di iniziare proprio per capire le vostre esigenze così da trovare il terapeuta più adatto a te tra i loro professionisti e inoltre amici il primo incontro conoscitivo è gratuito vi lascio come sempre il link per la compilazione del questionario sotto nella descrizione del video e non dimenticate che con il codice elisa 10 avrete il 10 per cento di sconto sulla prima seduta a pagamento amici mi raccomando prendetevi sempre cura di voi e adesso torniamo alla storia di oggi vi faccio un velocissimo riassunto della prima parte per rinfrescarvi la memoria e poi ripartiamo da dove ci eravamo interrotti dunque elisa claps scompare il 12 settembre del 1993 a potenza dopo essere andata ad un appuntamento alla chiesa della santissima trinità insieme a danilo restivo danilo restivo è un ragazzo con grossi problemi che nel corso della sua vita si è dimostrato anche pericoloso ma nonostante questo e nonostante il giorno della scomparsa di elisa sia stato visto tornare a casa tutto sporco di sangue non viene mai incriminato della scomparsa di elisa e le indagini in generale proseguono a rilento e in modo confuso con molte lacune per esempio non viene mai perquisita la chiesa in cui è scomparsa elisa non vengono mai sequestrati i vestiti insanguinati di danilo e tutto questo succede nonostante la famiglia claps lotti con tutte le sue forze per ottenere la verità ci eravamo poi spostati in inghilterra a barrow mouth e avevamo parlato di heather barnett una donna di 48 anni brutalmente uccisa in casa sua il 12 novembre del 2002 è trovata dai suoi figli e l'ultima cosa che vi avevo raccontato nella prima parte era che nella casa di fronte a quella di heather barnett ci viveva una coppia di italiani lei si chiamava fiamma e lui guarda caso era danilo restivo e qui finisce il riassunto della prima parte e adesso cominciamo con la seconda ci siamo quindi spostati in inghilterra perché danilo restivo nell'anno 2000 aveva lasciato l'italia e si era trasferito in inghilterra dopo aver conosciuto una donna su internet di nome fiamma una donna con una disabilità che la portava a zoppicare vistosamente molto più grande di lui fiamma secondo quanto dicono le persone che la conoscono è una donna molto sola che avrebbe fatto di tutto pur di avere un uomo al suo fianco ed è per questo che dopo solo pochi mesi dall'incontro virtuale con restivo lo aveva invitato a trasferirsi a casa sua appunto nella cittadina di barmouth in inghilterra nonostante l'uomo le parlasse di cose abbastanza inquietanti online danilo infatti le parlava in continuazione di sangue di operazioni ma fiamma c'era passata sopra i due avevano iniziato a vivere insieme e lei praticamente lo manteneva cioè fiamma tratta danilo più come un figlio che come un compagno tornando a heather quando le autorità arrivano sul luogo e analizzano la scena determinano che l'aggressione era avvenuta intorno alle nove del mattino e non era avvenuta nel bagno dove l'avevano ritrovata ma in un'altra stanza della casa ovvero lo studio in cui la donna lavorava e cuciva perché lavorava a casa come sarta heather aveva lottato con il suo aggressore e aveva provato a difendersi ma alla fine lui l'aveva uccisa colpendola alla testa ripetutamente con qualcosa che poteva essere un martello fracassandole il cranio il corpo era stato poi trascinato nel bagno e dopo l'aggressore l'aveva seviziata tagliuzzandola con un coltello in varie parti del corpo per poi fare una cosa orribile amici le aveva mutilato asportato entrambi i seni e le aveva piazzati dietro la sua testa la testa di heather e pensate che i suoi figli l'avevano ritrovata in quel modo un dettaglio però viene notato dai detective heather stringeva nelle mani delle ciocche di capelli stringeva in una mano una ciocca dei suoi stessi capelli e non erano capelli che heather aveva strappato durante la lotta era proprio una ciocca di capelli tagliata e piazzata nella sua mano destra mentre invece nella mano sinistra c'era un'altra ciocca di capelli stavolta non non era sua non era dei suoi capelli chiaramente non c'erano dubbi heather era stata uccisa e arrivati a questo punto della storia amici è anche abbastanza chiaro da chi si è stata uccisa no tutto urla danilo restivo ma i detective inglesi non lo sanno perché non conoscono danilo restivo non sanno nulla di lui iniziano comunque a cercare indizi in giro per la casa e trovano delle impronte insanguinate di una scarpa impronte così chiare da rivelare l'esatto modello di nike che il killer indossava nel bagno in cui avevano trovato il corpo trovano anche un asciugamano verde un asciugamano che però non apparteneva né a heather né ai suoi figli probabilmente quindi il killer l'aveva portato con sé per qualche motivo e poi l'aveva lasciato lì questo indicava che potevano avere a che fare o con un killer incredibilmente stupido che dimenticava cose sulla scena del crimine oppure con uno incredibilmente presuntuoso e sicuro di sé e noi sappiamo che restivo era un po' tutte e due le cose ma il fatto che avesse ucciso heather intorno alle 9 del mattino quindi poco tempo dopo che i suoi figli erano usciti per andare a scuola fa pensare ai detective che il killer sia qualcuno che conosceva la vittima che magari viveva lì vicino e conosceva la sua routine quindi nonostante le autorità inglesi non conoscessero restivo e non sapessero nulla di lui guarda caso è la prima persona con cui vogliono parlare quando le autorità bussano alla sua porta c'è solo lui in casa restivo dice alle autorità di non aver visto nulla di strano anche perché lui quella mattina a quell'ora all'ora del delitto non era neanche in casa si trovava infatti ad un corso di informatica che stava seguendo per poter trovare lavoro e aveva anche un biglietto dell'autobus che lo provava nonché l'ingresso al corso di informatica perché quando entravi nell'aula c'era un registro delle presenze in cui dovevi segnare il tuo nome e l'orario di ingresso di conseguenza amici quello era anche il suo alibi ed era un alibi anche abbastanza solido quindi boh forse ci stiamo sbagliando forse restivo stavolta non c'entra nulla le autorità continuano comunque a parlare con lui per poter accumulare quante più informazioni possibili su header sul vicinato e restivo racconta di essere molto dispiaciuto per la morte di header ma dice anche che i due non si conoscevano molto bene l'unico rapporto che lui diceva di aver avuto con lei era stato di natura diciamo lavorativa restivo infatti aveva commissionato delle tende a header da regalare a sua moglie fiamma perché forse non ve l'ho detto ma poi danilo e fiamma si sono sposati quindi lei era effettivamente sua moglie comunque racconta quindi di essere stato a casa di header un paio di volte la settimana precedente per appunto parlare di come fare queste tende ma oltre quello i due non avevano mai condiviso nient'altro infatti quell'asciugamano verde ritrovato sulla scena del crimine era effettivamente suo era di restivo ma se l'era portato con sé solo per mostrare a header il tipo di verde che voleva per le sue tende gli agenti capiscono di non aver più nulla da chiedere a restivo quindi decidono di andarsene ma prima uno degli agenti chiede di poter usare il bagno e quando ci va si accorge che nella vasca da bagno di restivo ci sono un paio di scarpe da ginnastica nike immerse completamente nella candeggina ora non so voi ma io le scarpe nella candeggina non le ho mai messe anche perché si distruggerebbero però certo se ci fosse del sangue sopra si distruggerebbe anche quello la cosa insospettisce molto il detective ovviamente che decide di sequestrare le scarpe e di confrontarle con l'impronta trovata sulla scena del crimine ma una volta confrontate le impronte non combaciano le scarpe sulla scena del crimine non sono quelle di restivo perlomeno non sono quelle immerse nella candeggina oltretutto restivo dice di aver fatto un errore cioè lui non sapeva che quella fosse candeggina perché chiaramente gli chiedono perché hai messo le scarpe nella candeggina non si fa e lui aveva risposto che non parlava bene l'inglese quindi aveva semplicemente sbagliato a leggere cosa c'era scritto sull'etichetta continuano le indagini e tra le cose analizzano il computer e il cellulare di header lavorando in proprio come appunto sarta tutte le informazioni sui suoi clienti si trovano lì dentro magari era stato uno di loro ad ucciderla sul suo computer non trovano nulla di che nulla di minaccioso ma c'è una mail piuttosto interessante header non molto tempo prima aveva scritto una mail a sua sorella lamentandosi di un cliente a quanto pare questo cliente era andato a casa sua per commissionarle delle tende ma quando era andato via header si era accorta che le sue chiavi di casa di riserva erano sparite era abbastanza certa che le avesse prese lui cosa che ovviamente l'aveva spaventata molto e questo era successo circa una settimana prima della sua morte da quel giorno header aveva fatto cambiare tutte le serrature di casa ma a quanto pare questo non era bastato a salvarle la vita i detective riescono anche a risalire al nome di questo cliente indovinate un po chi era danilo restivo ovviamente gli agenti allora contattano la sorella di header per sapere se le avesse detto qualcosa di più su restivo e la sorella risponde che header le aveva detto che quell'uomo era strano perché le aveva commissionato queste tende ma sembrava non avere nessuna idea di quello che voleva cioè non sapeva come le voleva ste tende di che tessuto di che colore e non era una cosa usuale perché se vuoi farti fare delle tende personalizzate su misura da zero un'idea un minimo di idea su come le vuoi ce l'hai anche perché se no te le vai a comprare all'ikea i detective iniziano a pensare che quella delle tende fosse una scusa una scusa che danilo aveva usato per passare più tempo con header e imparare la sua routine i suoi orari ma queste erano alla fine tutte supposizioni la verità è che non avevano prove su restivo perché le scarpe nike non combaciavano con l'impronta trovata lui pareva avesse un alibi di ferro l'asciugamano che avevano trovato era sua ma aveva un buon motivo per essere lì e l'accusa di header che restivo le avesse rubato le chiavi di casa non si basava su nulla cioè magari lei le chiavi le aveva semplicemente perse decidono quindi di inserire il nome di danilo restivo nel database della polizia internazionale essendo lui italiano così da capire se l'uomo avesse dei precedenti il risultato amici lascia i detective a bocca aperta perché come sappiamo danilo restivo non solo aveva dei precedenti ma era stato il sospettato principale di uno dei casi di cronaca nera più conosciuti e spaventosi d'italia la sparizione di elisa claps a questo punto sono sempre più convinti che il responsabile della morte di header sia lui però ovviamente devono trovare le prove oltretutto ai detective viene anche in mente quella ciocca di capelli sconosciuta che il killer aveva lasciato nella mano di header vi ricordate c'erano due ciocche una era di heather ma l'altra no era possibile che quella ciocca di capelli fosse di elisa claps ma dopo ulteriori analisi scoprono non essere così e cercheranno a lungo la proprietaria di questi capelli ma non troveranno mai nessun riscontro si recano quindi al corso di informatica che danilo diceva di aver seguito quel giorno così da verificare il suo alibi quando arrivano lì l'insegnante gli mostra il registro delle presenze in cui appunto gli alunni dovevano inserire il loro nome e l'orario in cui erano arrivati ma nella casellina in cui restivo aveva scritto l'ora del suo arrivo c'era un errore guarda un po' danilo aveva scritto di essere arrivato alle 10 in principio ma poi lo aveva corretto scrivendoci sopra che era arrivato alle 9 i detective quindi capiscono che restivo aveva corretto l'orario per procurarsi l'alibi per far sembrare che fosse arrivato lì alle 9 del mattino ovvero alla stessa ora del delitto ma in realtà non era così e per quanto riguarda il biglietto dell'autobus che possedeva quello non provava granché perché avrebbe potuto comprare il biglietto salire sull'autobus timbrarlo e poi scendere subito dopo o alla fermata dopo a questo punto le autorità mettono sotto sorveglianza restivo 24 ore su 24 e consegnano anche una lettera a sua moglie fiamma informandola del fatto che l'uomo fosse potenzialmente pericoloso ma lei continua a stargli accanto così come anche la sua famiglia in italia che sembra continuare a credere al fatto che lui non abbia mai fatto del male a nessuno o comunque diciamo che si costringono a credergli danilo sostiene che sia tutto un grande complotto contro di lui per qualche motivo non si sa bene quale sia la polizia italiana sia quella inglese voleva incastrarlo comunque danilo si comporta come se nulla fosse nonostante tutto niente sembra turbarlo infatti nel maggio del 2004 quindi due anni dopo il delitto di header inizia a comportarsi in modo ambiguo come se fosse pronto ad uccidere ancora la polizia come già detto lo tiene sotto sorveglianza 24 ore su 24 e quel giorno il 12 maggio notano che ad un certo punto si era recato in un campo un parco naturalistico in cui c'è solo vegetazione boscaglia e un sentiero lui restivo se ne sta lì in piedi si guarda intorno senza far nulla e osserva soprattutto le donne che passano una cosa particolarmente strana però è che in una calda giornata di maggio come quella lui indossa un cappotto e dei guanti addirittura mentre i detective lo tengono d'occhio ad un certo punto inizia palesemente a seguire una donna la segue per un po ma poi smette di farlo torna indietro alla sua macchina apre il bagagliaio e tira fuori un cambio di vestiti e si cambia ma la cosa inquietante è che i vestiti che indossa sono identici a quelli che aveva già indosso prima cioè sono due cambi di vestiti praticamente uguali gli agenti allora hanno una brutta sensazione e lo fermano convinti che si stesse preparando per un altro omicidio gli chiedono quindi con una scusa di aprire il bagagliaio della sua auto e dentro amici ci trovano praticamente il kit del serial killer trovano un coltello un paio di forbici e un passamontagna cioè come te ne esci da una situazione del genere danilo inspiegabilmente ne esce ha una risposta pronta per tutto una scusa per tutto lui si trovava nel parco per raccogliere degli insetti da dare da mangiare alla sua iguana che aveva a casa per questo aveva i guanti si era cambiato i vestiti perché i suoi genitori gli avevano insegnato che prima di andare a caccia ci si cambia così che non si sarebbe sporcato di fango il passamontagna invece lo aveva perché soffriva di una brutta sinusite e il suo medico glielo aveva consigliato la giacca invernale ce l'aveva perché lui aveva freddo e infine il coltello lo aveva trovato per terra nel parco lo aveva raccolto perché dei bambini ci giocavano troppo vicino e anzi se non lo avessero fermato lui poi sarebbe andato anche dalle autorità a consegnarlo cioè cosa gli vuoi dire niente gli anni passano e nel 2008 quindi 15 anni dopo la sparizione di elisa e 6 anni dopo la morte di heather sbuca su internet un blog un blog pro restivo che si chiama quanti dubbi sul caso elisa claps e in questo blog ci sono diversi utenti che appunto difendono restivo e sostengono che il povero uomo sia solo vittima di un complotto sia da parte della famiglia di elisa sia da parte delle autorità sostengono che addirittura dietro la morte di heather barnett ci sia niente meno che la famiglia claps che avrebbe pagato un sicario per ucciderla e per metterle in mano le ciocche di capelli così da far credere a tutti che dietro il delitto ci fosse restivo ok gli utenti che scrivono però sono sempre gli stessi infatti amici quando la squadra mobile verifica la provenienza degli indirizzi ip di nuovo indovinate da dove venivano scritti tutti quei post dal computer di danilo restivo ma danilo amici nega tutto perché comunque è un bugiardo patologico e dice alla sorella che lo chiama giustamente alterata che lui non ne sa niente di questo blog sicuramente è gente che lo conosce che conosce la sua storia dalla tv e lo vuole incastrare o ancora più probabile secondo lui è che sia la polizia italiana che scrive quelle cose e la sorella amici gli crede o comunque ripeto si costringe a credergli che poi perché mai la polizia italiana per incastrarlo avrebbe dovuto aprire un blog in cui lo difendeva vabbè nel 2008 don mimì il prete della chiesa della santissima trinità in cui elisa è scomparsa muore e con lui muoiono anche parecchie verità dopo di lui la chiesa della santissima trinità viene affidata a due sacerdoti stranieri prima a don noel okamba del congo e dopo pochissimo tempo a don ambroise atakpa originario del togo che però viene chiamato don ambrogio questa cosa in realtà è molto strana perché come vi spiegavo all'inizio del primo video la chiesa della santissima trinità è una chiesa molto molto importante quindi fare il sacerdote lì è un ruolo molto ambito ed è strano che invece di preti illustri e importanti del nostro paese siano stati messi dei sacerdoti sconosciuti e oltretutto con origini estere don ambrogio comunque prende il posto di don mimì e con lui lavora anche un altro prete don guagno che gli fa da tipo assistente non so i nomi dei ruoli ecclesiastici comunque come se fosse il suo vice anche don guagno è straniero viene dal brasile ma passeranno altri due anni prima che arrivi la svolta la prima vera svolta nel caso elisa claps siamo al 17 marzo del 2010 quindi esattamente 17 anni da quando elisa è scomparsa nel nulla quel giorno degli operai si recano alla chiesa della santissima trinità per controllare l'origine di alcune infiltrazioni mentre si trovano lì si accorgono che a fianco al campanile c'è una porta che conduce ad un sottotetto quando aprono questa porta si rendono subito conto di quanto quel sottotetto sia sporco c'è un odore orribile ma soprattutto è molto buio quindi per farsi luce uno degli operai usa il cellulare quando ad un certo punto avvicinandosi a delle travi vede qualcosa di strano e guardando meglio si rende conto che quello è uno scheletro quelli che sta vedendo davanti a sé sono resti umani quando la squadra mobile viene avvertita non nessun dubbio finalmente avevano trovato elisa arrivati sul posto hanno un ulteriore conferma quando riconoscono gli occhiali da vista che portava elisa e anche il top la maglia che indossava il giorno della sua scomparsa che era bianca e fatta ai ferri da sua mamma filomena l'aveva fatta apposta per lei inutile dirvi la reazione della famiglia claps la mamma filomena e gildo sono a dir poco sconvolti antonio il papà ha una reazione molto forte ha iniziato a scaraventare a terra i piatti e addirittura aveva perso i sensi tutto questo per lui è troppo pensate che non riuscirà neanche ad andare al funerale della figlia e sprofonderà ancora di più in quel dolore che lo aveva accompagnato per tanti anni non ne uscirà mai più qualche giorno dopo la famiglia deve anche affrontare il duro compito di identificare i resti e comunque gli esami danno la certezza definitiva è ufficiale quelli sono i resti di elisa claps avete capito bene amici elisa claps è scomparsa in quella chiesa e da quella chiesa non è mai uscita è stata lì dentro per tutto il tempo le analisi tra l'altro lo confermano il suo corpo non è mai stato spostato dal 1993 quando è stato ritrovato il suo corpo nel sottotetto c'erano delle grosse tegole che erano state appoggiate sulle sue gambe e un'altra tegole era stata appoggiata vicino alla sua testa come se qualcuno avesse voluto nasconderla ma la cosa più strana è che sopra il corpo era stata creata un'apertura cioè qualcuno aveva fatto un buco togliendo le assi di legno dal soffitto dal tetto in modo che inutile dirlo l'odore del corpo in decomposizione uscisse dall'autopsia che tra l'altro va avanti per mesi amici emerge che elisa era stata colpita ben 13 volte con un coltello le era poi stato tagliato il reggiseno e le era stata abbassata la cerniera dei pantaloni e sul cranio di elisa amici c'erano ancora dei capelli alcuni dei quali erano stati tagliati di netto e chiaramente amici a questo punto stiamo tutti pensando a lui non che ci fossero dubbi danilo restivo è lampante che sia lui responsabile ma se vi ricordate restivo subito dopo la scomparsa di elisa subito dopo adesso possiamo dirlo averla uccisa era corso all'ospedale perché con lo stesso coltello che aveva usato si era tagliato la mano quindi non poteva essere stato lui ad aver fatto quell'apertura sul soffitto che secondo gli esperti era stata fatta con cura con precisione e soprattutto con calma qualcuno doveva averlo aiutato qualcuno come per esempio don mimi che da quel giorno fino alla fine del dei suoi giorni non aveva permesso a nessuno di entrare in quella chiesa chiesa che a questo punto diventa complice di restivo ma c'è una cosa ancora più sconcertante se ci pensate com'è possibile che per 17 anni nessuno sia mai andato in quel sottotetto nessuno possibile improbabile infatti probabilmente non è così probabilmente qualcun altro tempo prima aveva già scoperto il corpo il corpo di elisa ma non aveva mai detto niente intanto quando gli operai di cui vi ho parlato prima avevano scoperto il corpo lì nel sottotetto avevano avvertito don guagno l'assistente di don ambrogio che quel giorno era fuori città don guagno però aveva reagito un po come se niente fosse che già non è normale perché ti dicono che c'è un corpo nel sottotetto della tua chiesa perlomeno tu disdici i tuoi impegni ti mostri un po turbato ma lui no aveva chiamato la polizia ma era andato avanti con la sua giornata e con i suoi impegni subito però aveva detto alla polizia che lui non sapeva nulla perché in quel sottotetto non c'era mai entrato prima ma tre giorni dopo aveva cambiato versione aveva detto che pensandoci bene c'era entrato una volta qualche mese prima insieme a due donne delle pulizie e lì aveva effettivamente visto qualcosa aveva visto qualcosa che sembrava un corpo ma a detta sua aveva pensato che fosse uno scherzo di qualche ragazzo ma a marzo del 2010 quando il corpo di elisa era stato trovato dagli operai don guagno si era detto aspetta un attimo ma allora forse quel corpo che avevo visto io era reale ma prima di chiamare la polizia a quanto dice lui aveva chiamato un vescovo superiore per comunicargli la cosa ma sentite bene il vescovo al telefono invece di capire ho visto un cranio nel sottotetto dice di aver capito ho visto un ucraino nel sottotetto un ucraino amici io ve lo giuro sembra una barzelletta di cattivo gusto ma non lo è cioè questa parte mi ha sempre lasciata un attimo allibita ricordo quando ho scritto questa parte nel mio libro ero solo confusa pensavo di aver capito male io cioè di aver capito anche io ucraini per crani eppure ci sono diversi articoli che riportano questa cosa quindi ho detto speravo vivamente che ascoltando il podcast di pablo avrei capito meglio o avrei capito di aver capito male io invece no amici la situazione è demenziale esattamente così come sembra c'è un cranio nel sottotetto cosa c'è un ucraino nel sottotetto a fico ma poi dopo qualche giorno questo è sempre quello che racconta don wagner lui e questo vescovo avevano capito di non essersi capiti e quindi wagner era appunto andato alla polizia e aveva appunto cambiato versione dicendo di esserci appunto già stato nel sottotetto insieme a quelle due donne delle pulizie ma le due donne delle pulizie negano dicono di non esserci mai state prima in quel sottotetto perché mi vuoi rovinare così se non è vero sta scherzando che cosa hai detto ma non è la vita non è la vita per carità di dio non è la vita per la vita ma che ti dico io che si è una cosa scherzosa sembrare bene veramente non sembrava niente e tu mi dici che io sono io che insieme un tempo fa tu ci siamo andati ma state i numeri c'è te lo vanno tu hai detto mi sembra c'è una vista la spassatura con un paio di un po' di mani che non scappiva niente e basta e basta dire che mi ritravo mamma mia è un bene per tutti e per tutti per me è uguale gli inquirenti però sembrano considerare più attendibile il sacerdote rispetto alle donne infatti le due donne verranno accusate di false dichiarazioni e condannate a otto mesi di reclusione ma amici non è finita qui perché si pensa che il corpo di elisa sia stato trovato anche un'altra volta nel 1997 nel 97 infatti a seguito di un terremoto erano stati fatti parecchi lavori di ristrutturazione nella chiesa e pare che almeno una ventina di persone siano entrati in quel sottotetto in cui elisa vi ricordo è sempre stata dal 93 perché il corpo non è mai stato spostato quindi come è possibile che nessuno abbia visto il corpo di elisa non lo è si pensa infatti che qualcuno lo abbia visto e abbia avvertito il parroco che al tempo nel 97 era ancora don mimì e si pensa che don mimì non abbia fatto nulla tendenzialmente perché sapeva già che ci fosse il corpo di elisa nel sottotetto anzi proprio perché lo sapeva già quando sono venuti gli operai probabilmente aveva fatto in modo o che non vedessero il corpo in qualche modo non lo so magari coprendolo nascondendolo o che non parlassero c'è stata infatti un'indagine per favoreggiamento nei confronti degli operai che però è andata in archiviazione ora amici torniamo al presente cioè al presente nella storia è il 2010 e il corpo di elisa è stato trovato e non ci sono più molti dubbi su restivo infatti in inghilterra si riaprono le indagini sul delitto di heather barnett perché alla fine era tutto collegato di conseguenza le autorità italiane e quelle inglesi iniziano a collaborare tra loro e a metà maggio del 2010 danilo viene arrestato dalle autorità inglesi per l'omicidio di heather barnett e quasi allo stesso tempo anche in italia viene emanato un mandato d'arresto contro di lui perché sulla maglia di elisa proprio quella cucita ai ferri da sua mamma filomena vengono trovate tracce del dna di restivo restivo danilo dopo aver dato appuntamento alla giovane elisa claps nella chiesa della santissima trinità di potenza e dopo averla ivi incontrata con un pretesto la induceva a seguirlo nei locali pertinenziali a detta chiesa sino al sottotento dove dopo aver tentato un approccio sessuale con la giovane venendo rifiutato infieriva sulla stessa colpendola ripetutamente almeno 13 volte anche con un'arma da punta e taglio con cui la attingeva al torace sino a cagionarne la morte dopodiché la trascinava in un angolo del sottotetto e qui coprendola di materiale vario tra cui delle tegole ivi riposte e materiale di risulta ne operava l'occultamento del cadavere restivo deve affrontare prima il processo per l'uccisione di heather che tra l'altro sarà uno dei processi più lunghi della storia inglese pensate che è durato per ben un anno e anche per questo processo la famiglia claps è presente non si è mai persa un'udienza danilo a questo processo si dichiara innocente e tenta di passare come un poverino che non sa l'inglese quindi non capisce bene tenta di fare pena sostanzialmente ma questo non funziona ma amici non funziona manco col suo avvocato perché nella ringa finale la sua stessa difesa quindi il suo avvocato dice che onestamente non sa che cosa dire perché la prima volta che gli succede di avere solo cose negative da dire a proposito del suo cliente aggiungendo che danilo dice solo bugie c'è persino non lo so jeffrey damer ce l'ha avuto un avvocato disposto a difenderlo questo dovrebbe farvi capire una cosa o due su danilo restivo così la butto lì infatti nel giugno del 2011 danilo viene dichiarato colpevole e condannato a 40 anni di carcere dopo cinque mesi inizia il processo italiano a salerno per l'uccisione di elisa claps e persino qui amici persino a questo processo restivo ha il coraggio di dichiararsi innocente e non solo di dichiararsi innocente ma addirittura legge una lettera in tribunale dedicata alla mamma di elisa filomena che ovviamente era lì davanti a lui tra l'altro con una gigantografia di elisa grande quanto una casa e in questa lettera lui dice mi dispiace per la morte di vostra figlia ma non l'ho uccisa io non so chi sia stato ma non sono stato io e addirittura amici nella lettera parla al fantomatico colpevole dicendo parlo alla tua anima e ai tuoi sensi di colpa ti chiedo di costituirti la sentenza è semplice e chiara colpevole 30 anni e sì 30 anni e non l'ergastolo questo perché alcuni dei reati come la violenza sessuale e l'occultamento di cadavere nel frattempo erano caduti in prescrizione però amici questi 30 anni si vanno a sommare ai 40 inglesi quindi il nostro danilo restivo non uscirà mai più di galera e tra l'altro a questi processi non si è mai presentata la sua famiglia la famiglia di danilo non era presente lui più volte chiederà della sua famiglia di suo padre di sua sorella ma loro non non si sono mai presentati la chiesa della santissima trinità è stata chiusa per molti anni ma poi ad un certo punto è stata riaperta dopo 13 anni tra l'altro pochissimo tempo fa il 24 agosto la famiglia clubs chiaramente ha chiesto per lo meno se proprio proprio dovevano per forza riaprirla di dedicare qualcosa ad elisa come per esempio di non celebrare la messa né nessuna funzione all'ora in cui elisa era morta lì dentro quindi dalle 11 all'una o ancora meglio e questo sarebbe stato davvero stupendo di trasformare direttamente la chiesa in un centro antiviolenza o in un museo volevano che oltretutto la chiesa si scusasse con loro che mi sembra veramente il minimo e invece amici nulla di tutto ciò è avvenuto la chiesa è stata riaperta in silenzio nessuno ha mai detto nulla e ovviamente non si sono scusati e hanno ignorato tutte le richieste della famiglia clubs ah e tra l'altro dedicato ad elisa non c'è niente nella chiesa ma per domimi ovviamente sì c'è una bella targa in memoria di quest'uomo che presumibilmente ripeto presumibilmente ha aiutato un killer a nascondere il corpo di una ragazzina innocente per tutti quegli anni ma la storia amici purtroppo non finisce qui elisa e heather hanno avuto in qualche modo diciamo così giustizia ma si pensa che danilo restivo abbia ucciso altre donne e che esattamente come stava per succedere nel caso di elisa e di heather non sia mai stato beccato vi ricordate la ciocca di capelli sconosciuta nelle mani di heather le autorità sono sempre state convinte che appartenesse ad un'ennesima vittima di restivo mai identificata e a proposito di questo una delle possibili o probabili vittime di restivo è oki jong ok shin chiamata da tutti appunto oki è una ragazza coreana di 26 anni che all'inizio del 2002 si era trasferita in inghilterra per studiare il 12 luglio di quell'anno era uscita con alcuni suoi amici era sera tardi e ad un certo punto mentre oki si stava dirigendo da sola verso casa sua era stata aggredita e pugnalata in mezzo alla strada oki aveva urlato così forte da spaventare la persona che l'aveva aggredita facendola scappare via oki era sopravvissuta fino all'arrivo in ospedale ma purtroppo era morta qualche ora dopo a causa delle ferite riportate prima di morire però era riuscita a dire che il suo aggressore indossava un passamontagna allora non dice proprio passamontagna che in inglese si dice balaclava dice invece he was wearing a mask indossava una maschera ma tenete conto che oki non parlava bene inglese si trovava lì proprio per studiarlo e balaclava non è una parola comune no cioè non sembra neanche una parola inglese quindi è possibile che volesse dire che indossava un passamontagna ma che il modo più semplice di esprimerlo sia stato indossava una maschera cioè nel senso aveva il viso coperto e vi ricordate che cosa aveva danilo restivo nel bagagliaio della sua auto quando la polizia l'aveva fermato al parco perché sembrava volesse aggredire qualcuno un passamontagna un coltello e delle forbici oki era stata pugnalata e come se non bastasse accanto a dove era stata aggredita sul marciapiede era stata trovata una ciocca di capelli tagliata ah è come se tutto ciò non bastasse l'aggressione è avvenuta sulle tre strade da casa di restivo purtroppo però per la morte di oki verrà arrestato un altro uomo di nome omar banguit un tossico dipendente incastrato dalla testimonianza comunque piena di lacune ed errori della sua fidanzata ma sono davvero in molti ad essere convinti che la testimonianza di questa donna sia stata tutta una messa in scena per incastrare l'uomo sono davvero tanti gli elementi che lo suggeriscono ma nonostante questo omar si trova in prigione con una condanna all'ergastolo per l'uccisione di oki ultimo ma non meno inquietante elemento di questo caso è qualcosa di ricorrente non so se ve ne siete accorti ma c'è un numero che continua a tornare in questa storia il numero 12 elisa claps è stata uccisa il 12 di settembre heather barnett è stata uccisa il 12 di novembre oki è stata uccisa il 12 di luglio e vi ricordate che giorno era quando restivo è stato fermato dalla polizia al parco col kit da serial killer pronto a colpire era il 12 maggio possibile che il numero 12 sia per qualche motivo un'altra delle fissazioni di restivo e se è così perché purtroppo amici queste sono tutte le informazioni che avevo sulla storia di oggi non vi chiedo di farmi sapere se la conoscevate già perché sicuramente la risposta è sì quindi io non aggiungo altro a parte che come sempre io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.